Il Movimento Democrazia Solidale interviene in merito all'ipotesi di riportare la stazione dei treni a Fiumicino Città. Ci fu un giorno in cui all'improvviso la ferrovia che serviva il territorio dal 1878 fu cancellata, si legge in una nota del gruppo. Qualcuno decise, senza avvertire la collettività, che sarebbe stata eliminata. Vi furono proteste e manifestazioni, ma mai nessuna risposta. Così, da allora i cittadini affrontano varie peripezie per raggiungere Roma. A nostro avviso la stazione poteva rimanere lì dove era e ne avrebbe guadagnato anche tutto il complesso edilizio che si è voluto costruire. Oggi il ritorno del treno lo si lega sempre ad altri eventi, la maggior parte dei quali aleatori. Se si costruisce il porto commerciale, allora sarà collegato con una linea ferroviaria. Ma se il porto non si fa, niente stazione? È arrivato il momento di lavorare seriamente per trovare una soluzione a questo problema. Invitiamo i gruppi politici presenti in Consiglio Comunale a chiedere al Sindaco di intraprendere un'iniziativa forte e risoluta per riportare subito e non quando vogliono gli altri il treno nella nostra città. Terminano gli esponenti di Democrazia Solidale.